Musica Ciao a tutti ragazzi qui ZW Jackson e benvenuti nel mio canale Quest'oggi siamo con un video particolarmente interessante Infatti siamo qua con i possibili trasferimenti estivi dei giocatori Allora metto subito le mani avanti perché io non sono un mago Non sono un indovino quindi queste cose qua sono comunque prese da Transfer Market E non è una pubblicità magari lo fosse Magari lo fosse Transfer Market Se mai tu dovessi vedere questo video Chiamami che ti pubblicizzo Quindi ragazzi sono tutte fonti prese su internet E calma con i commenti A proposito di commenti fatemi sapere qua sotto Appunto una lista dei vostri possibili trasferimenti Che appunto magari potrei portare un episodio 2 Come primo giocatore troviamo Starridge Starridge come appunto potrete vedere Secondo Transfer Market Passerà dal Liverpool al Paris Saint Germain Tra l'altro ho abbassato l'overall Perché si tra l'altro mi sono anche messo un pochino a modificare gli overall Perché Starridge comunque non è che abbia fatto tantissimo con il Liverpool Qualche partita buona l'ha fatta Però non è più lo Starridge che segnava tantissimo insieme a Suarez Al Liverpool E secondo me al Paris Saint Germain arriverà con un overall di 83 Comunque abbiamo visto Cioè ho calato le statistiche veramente di poco Anzi il dribbling e il fisico li ho addirittura alzati Per il resto ragazzi Starridge al PSG come lo vedo? Lo vedo abbastanza bene Secondo me una quindicina di golli potrò fare nella Ligan Perché è un attaccante alto e molto veloce E comunque la Ligan non è che abbia difensori troppo veloci Cioè gli unici difensori veloci che sono Marchinho e Santiago Silva Giocherebbero in squadra con Starridge Quindi Il secondo giocatore ragazzi è Hector Bellerin Secondo me il 2018 potrebbe essere l'anno del grande salto del terzino destro spagnolo Allora passerà secondo me appunto al Barcellona Potete vedere che gli ho dato addirittura un 84 di overall Un più 4 di overall perché ha avuto comunque delle versioni IF importanti in questo FIFA E ragazzi come ben si sa quando comunque un giocatore va in un top club europeo L'overall viene aumentato tantissimo Oppure soprattutto quando va in Premier League Quando va in Premier League Sai tranquilli che l'overall Cioè praticamente aumenta in modo assurdo Possiamo vedere il 97 di velocità scatto 82 di difesa addirittura Da 75 Quindi secondo me ci sarà un buon upgrade E 77 di fisico da 69 Per il resto ragazzi Bellerin sarà veramente qualcosa di animalesco Costerà tantissimo su foot In carriera praticamente sarà uno dei migliori terzini destri E appunto il Barcellona avrà sistemato anche una piccola parte Che quest'anno i terzini del Barcellona A parte Alba non è che fossero granché E invece con Bellerin secondo me si metterà a posto Passiamo adesso a un trasferimento importante I trasferimenti importanti ragazzi avranno la carta blu La carta Toti o Tots Non mi ricordo adesso Comunque tra l'altro un bel mi piace Per portare l'episodio 2 Quindi 5000 mi piace Portiamo l'episodio 2 Con i giocatori che mi direte voi nei commenti Ma ragazzi un bel mi piace Soprattutto perché queste carte le ho fatte tutte io Con le mie manine e il mio Photoshop Quindi ci ho messo veramente un'eternità Spero che vi piacciono Allora Griezmann Dal Atletico Madrid Al Manchester United 90 di overall Possiamo vedere tra l'altro la carta strafiga Con i capelli lunghi E tra l'altro avevo trovato questa carta Con il collettino rosso Stile Manchester United Quindi proprio azzeccatissima L'ho aumentato molto Perché appunto come vi ho detto prima Quando i giocatori vanno in Barclays Premier League Esplodono Cioè gli overall praticamente impazziscono E infatti 91 di velocità 91 di ribling 91 di tiro Questa carta qua Se veramente ci sarà domani Sarà tipo La carta più forte Insieme a Luis Suarez Come ATT Perché Lewandowski è forte Ok Però non è velocissimo Magari è un po' meno tecnico Rispetto al Suarez E nel caso ci dovesse essere Anche questo Griezmann Già è forte così Con 88 in FIFA 17 Se in FIFA 18 ci dovesse essere questa carta Costerà tipo 2 milioni e mezzo Io ve lo dico Una volta venduto Griezmann L'Atletico Madrid Come sempre dovrà andare ad investire Ragazzi guardate qua cosa ho pensato Qua veramente C'è stato il colpo di genio Perché è tutto programmato Cioè nel senso è tutto Che segue l'altro Quindi un bel mi piace anche per questo Allora Mbappelotten Da 71 a 83 A parte questo Perché Mbappelotten Realmente è un fenomeno Però secondo me Mbappelotten Prenderà il posto di Griezmann Per tre motivi Uno La nazionalità È francese Quindi Potrebbe proprio rimpiazzare Griezmann So che c'entra poco Però comunque È un piccolo dettaglietto Che si può aggiungere Due È giovanissimo E oltre ad essere giovanissimo Appunto la parte 3 È un bo' È una bestia È fortissimo È fortissimo Al Monaco E in Champions League Ha soltanto 18 anni Sta facendo veramente Faville Veramente Fortissimo Questa carta qua Secondo me In FIFA 18 Magari non 83 Io magari ho voluto esagerare Perché nel caso Non dovesse andare All'Atletico Madrid Secondo me Gli daranno Un 80 massimo Di overhaul Però Se Mbappelotten Continuerà così A stupire tutti E appunto Dovesse andare All'Atletico Madrid Secondo me Un 83 Ci sta tutto Come potete vedere Ho appunto Aumentato la velocità Il tiro Il dribbling Aumentato un po' Tutto E non lo so ragazzi Fatemi sapere Che cosa appunto Ve ne pare Un altro cambio Che ci potrà essere È Arturo Vidal Dal Bayern Monaco Al Chelsea Tra l'altro Con un upgrade Perché Al Bayern Monaco Vidal sta giocando benissimo Anche se sbaglia Praticamente tutti i rigori Però è anche quello Che segna È un centrocampista Completo Al Bayern Monaco Si è elevato Ancora di più E secondo me Ragazzi Tutte questioni di ipotesi Fatemi sapere la vostra nei commenti Perché è importantissimo Secondo me Il Chelsea di Conte Vincerà Quindi Abramovic Dovrà per forza Fare un regalino A Mr. Conte Mr. Conte Secondo me Ha bisogno di un centrocampista Perché Fabregas E tu E gli altri centrocampisti Del Chelsea Comunque Non è che spicchino tanto Kantè è un animale Ma Kantè è Kantè Però gli altri Non è che siano Così Nomi importantissimi Fabregas ormai È andato con gli anni E secondo me Abramovic Potrà regalare appunto Arturo Vidal Al Chelsea Tra l'altro Vidal al Chelsea Come vi ho detto io Prima Premier League Poi Vidal è forte Ha fatto un buon campionato Anche fino adesso Quindi l'88 Secondo me ci sta Un trasferimento Che secondo me Farà parlare tantissimo Ma non come quello Che ci sarà dopo Aubameyang Al Milan Ragazzi Allora Il Milan è stato comprato Dai cinesi Come ben sappiamo Vuole Aubameyang Da tantissimo tempo Aubameyang aveva anche Già giocato nel Milan Però era stato scartato Praticamente buttato via Perché non era forte E invece adesso Aubameyang è uno dei migliori attaccanti Come si sa Su di lui Ci sono tantissime squadre Lui Sogna Il Real Madrid È il suo sogno da bambino L'ho sempre detto Però Secondo me Per puntare in alto Il Milan potrebbe fare Una grandissima offerta E appunto provare A portare Aubameyang In attacco Adesso siamo qua Con uno dei trasferimenti Che secondo me Farà più discutere Nei commenti Però ragazzi Fatemi sapere le vostre In maniera calma Cioè non litigate E non insultatemi neanche Per favore Allora Di Bala Dalla Juve Al Barcellona Come si sa Di Bala Ha firmato il contratto Che lo legherà Alla Juve Fino al 2022 Non mi ricordo 2023 2022 Non mi ricordo benissimo adesso Però Il Barcellona È Sulle tracce Di Di Bala Anche Real Madrid Anche tantissimi top club europei Però appunto Il Barcellona Secondo me Nel caso Dovesse andare Clamorosamente Via qualcuno Potrebbe provare A fare L'offertona Alla Juve E la Juve Davanti a un'offerta Galattica Siamo sicuri Che potrà rifiutare Secondo me Questa più Un 40% Andrà via 60% Rimarà Però comunque Secondo me Appunto Ci sarà la possibilità Che Di Bala Possa andare al Barcellona Tra l'altro A T Quindi cambia Il ruolo E sarebbe anche perfetto Perché il Barcellona Gioca col 4-3-3 Falso 9 Quando appunto Non c'è Suarez E ragazzi 88 di overall Perché è veramente Fortissimo Di Bala E per collegare Ancora tutto Come vi ho detto Ames Rodríguez Alla Juventus Dato che appunto Di Bala Nel caso Se ne dovesse andare Però Ames Rodríguez Secondo me Potrà arrivare Alla Juventus Anche nel caso Di Bala Dovesse rimanere Perché comunque È un giocatore fortissimo Guardate tra l'altro La foto che mi è uscita Proprio l'ho fatto Perfetto Fotomontaggio Top Dicevo Mi stavo esaltando Per le mie doti Di Photoshop Allora dicevo Ames Rodríguez Non ha trovato Per niente spazio Nel Real Madrid Proprio zero Cioè Infatti guardatelo Anche downgradato E appunto Secondo me Per una cinquantina Sessantina di milioni Potrebbe andare Alla corte Di Mr. Massimiliano Allegri Fatemi sapere Cosa appunto Ne pensiate voi Nei commenti E per finire Voglio finire Con questo dissing Assurdo Che però Cioè Lo metto Perché appunto Transfer Market Parla di un'ipotetica Offerta in estate Della Juventus Per Donnarumma Allora So benissimo Che Donnarumma È tifoso milanista C'è stato anche lo scandalo Quando ha detto Tipo Sempre voi Sempre voi Che appunto Sierano incazzati I tifosi juventini Però la Juve È proprio sulle tracce Del portiere milanista Adesso Io non vorrei creare Troppi casini Però ragazzi C'è veramente La possibilità Quindi Tranquilli Fatemi sapere voi Appunto Come dovreste Prenderlo Un possibile Trasferimento Di Donnarumma Alla Juve Tra l'altro Guardate l'overall Come aumenterebbe E come aumenterà Di sicuro Magari appunto La Juve Se Donnarumma Dovesse andare alla Juve Sarà 83 O addirittura Anche 84 Perché la Juve Ha un contratto Ha una partnership Con FIFA 17 Mentre invece Sicuro l'anno prossimo Anche se dovesse Rivenere al Milan Sarà come minimo 81 82 Perché è veramente Donnarumma Fortissimo Giovanissimo E non lo so C'è la possibilità Però Come sempre Ragazzi Ve lo ripeto Sono tutte Sono tutti pronostici Pronostici Comunque il video Finisce qui Da ZV È tutto Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Fatemi sapere la vostra Nei commenti Andate Prendete il cellulare E scrivete Jax Con 5A E 2S Finali E seguitemi su Instagram Comunque Se vorreste far prima In descrizione Lo trovate il mio Instagram Ciao ragazzi Vi ricordo Di non uccidervi E di non uccidermi Nei commenti Perché Io ho soltanto Riportato delle fonti Ciao belli E di non uccidermi E di non uccidermi